Io penso che nel mondo di oggi in cui si dicono tante parole inutili che vengono smentite appena dette, che vengono poi sostituite con parole che dicono esattamente il contrario, una testimonianza che si base su fatti realmente accaduti e che accadono sia fondamentale per i ragazzi, per far capire loro che cosa veramente di reale c'è, chi siamo veramente, e quali sono i valori che possiamo veramente cercare di realizzare, non a parole ma con i fatti. Quindi la testimonianza ha un valore enorme nel giorno di oggi, proprio per questo motivo, perché il virtuale ci spiazza moltissimo e i ragazzi vivono troppo nel virtuale.